Una iniziativa importante, questa soprattutto dopo gli ultimi casi di cronaca? Sì, sicuramente. Ci sfugge un dato fondamentale epidemiologico che è quello che poi ha la base di tutte queste iniziative. Il dato è questo, il 25% di un dato nazionale degli infarti acuti non raggiunge l'ospedale. Ma non è che non raggiunge l'ospedale per motivi logistici, tecnico-pratici, non raggiunge l'ospedale nel senso che decede prima di arrivare in ospedale. Quindi un infarto su quattro non arriva. Quindi più si ha una maggiore diffusione di queste attrezzature, di queste apparecchiature, di questi punti, chiamiamoli tra virgolette salvavita, è maggiore la possibilità che questo 25% si vada a ridurre. La proposta è quella di mettere all'interno di queste strutture dei cabinet box, quindi chiunque sa utilizzare defibrillatore in caso di infarto può intervenire. Soffermiamoci un attimo sul corso che è importante perché è aperto a tutti. Il corso è aperto a tutte le persone che vogliono partecipare, non c'è nessun tipo di presupposto di tipo sanitario che uno debba avere, anche a associazioni o enti che abbiano certi requisiti. È un'iniziativa che mira appunto a rendere più sicuri soprattutto gli impianti sportivi cittadini più utilizzati, che sono quelli con una maggiore affluenza, ma soprattutto di ragazzi, per cui è fondamentale che questi abbiano la certezza, soprattutto magari le loro famiglie, che i figli possano adoperarsi nell'attività sportiva in totale sicurezza.